Vengo Dario Sì? Cosa stai facendo? Non ho un problema di scacchi Ho visto che hai preso la settimana enigmistica Ah questo problema di scacchi, sei esperto di scacchi? Me la cavo bene Ah benissimo, benissimo Non me la cavo bene io di scacchi Facciamo qualcos'altro così non mi fai fare brutta figura Ok Cosa possiamo fare? Vuoi che facciamo un gioco da questa pagina? Sì, questo Reboost mi piacerebbe Quello lì vuoi fare? Non quell'altro? Vabbè facciamo il primo Allora metti solo dritto Aspettate così inquadro bene Allora inquadriamo il Rebus Allora sei esperto? No, non ho mai fatto Rebus e quando li faccio faccio sempre schifo Eh dai adesso vedremo di risolvere questo Allora guarda per risolvere il Rebus bisogna guardare i soggetti che hanno le lettere Le lettere sopra Cominciando dalla sinistra Indecchiammi con la penna In che senso? Le lettere dove vedi? A, T L, P, L, P, L, P, R, R, N, O Dopo R c'è? I, A è vero Allora adesso dobbiamo dire le varie cose che hai indicato A Beh A, T Cosa sono A, T? A, T sono Vediamo se lo sai Sono una vocale, una consonante No, no, A e T, sì, ma cosa indicano sul disegno? Tende Tende Esatto, A, T sono tende Allora scrivi Scrivi magari qua su in alto A A, T, E poi scrivi quella parola che hai detto A, T, E poi scrivi quella parola che hai detto Esatto Eccoci qua E in tutto quante lettere abbiamo scritto? Cinque No, in tutto Anche con l'AT A Sette Sette lettere Allora guarda Tira via la mano Vicino al Rebus c'è scritto nove, due Vedi? Sì La prima parola è di nove lettere Quindi abbiamo formato sette lettere Sì Le prova a leggere Nove Sì sì ma prova a leggere quelle sette lettere Tutto di fila A, T, T, E, D Tutto di fila Come se fosse una parola sola A, T, E, D A, T, T, E Ma leggila di seguito Senza l'uguale Senza pausa A, T, T, E Ma no A, T A, T, E, T A, T, E, T, E, T, E Adesso dobbiamo formare la prima parola Allora questi Vedi che sono arrestati Sì Sai come si può dire La parola arrestati? Vai un po' più sotto Re Penso Re Ah ecco bravo E quindi sono due Sono due Re Uno è Re E due sono Re Re, esatto Allora scrivi Re Sopra Vicino a dove hai scritto Tende Più avanti Sì E adesso Ecco Re E sono indicati con le lettere I Re L e P L e P Scrivi L e P Subito dopo Allora prova a leggere nove lettere adesso Conta nove In che senso? Cos'è? A, D Sì sono due lettere Attende Nove lettere Nove lettere E A Attende Re L e P No no Nove lettere Che significa Non hai mai risolto Attende Re Attende Re Attende Re sono dieci Attendere Attendere Allora metti una bella linea verticale Dopo attendere Oh la Adesso ho capito come si risolvono i Re Il primo Re È difficile Come è stato difficile per me Adesso ho due lettere È il È il Il Attende Attendere Il Poliziotto Adesso vediamo se è Vediamo R e I Cosa fanno R e I Lavorano con della Creta Qualcosa del genere Sì ho capito Costruiscono Si si può dire Quando un pittore o uno scultore Lavora la creta Lavora Lavora La sta Modellando Modellando E quindi la Allora R e I Scrivi scrivi R e I Sì sì La modella Allora scrivi R e I R e I cosa fanno il verbo Modellare Il verbo Coniugalo Modè Modellano Modellano Modellan Fermo Adesso tu non puoi immaginarlo Ma questo va messo a tronco Questo verbo Modellan Perché mettendo N O In fondo Agene con l'accent Viene fuori Modellano Quindi scrivi anche N O Ecco adesso prova Prova a leggere la frase Dividendo Dividendo come è scritto sopra 9 2 5 4 4 Quindi 9 Ho fatto le due lettere 5 Quindi L P R 4 5 Conta 5 lettere Sì forse hai detto Sì perché se lo metti Ok Metti una linea 4 E 4 Modellan N O Modellan N O Modellan N O N O Ancora una N Deve mettere Modellan Ok Allora vediamo la frase Cosa vediamo Attende Attende Attendere Attendere Sì Il Primo E Tanti Tanti Rebus Da Risolvere Nel frattempo Va bene Sei soddisfatto Ti lascio i tuoi problemi di scacchio Sì grazie Va bene Va bene Dopo ti farò rifare qualche altro Rebus Ciao Dario Ciao In montagna E domani Ti porti a settimana in mistica Sì sì Per forza Bene Ciao Ciao